La notizia ha dell'ecratante. Mercenari filorussi venivano reclutati in Ucraina da un'organizzazione che è stata scoperta dai carabinieri del ROS indagando sull'area degli Schined in Liguria. 15 in tutto gli indagati. I militari hanno arrestato a Milano, nelle province di Avellino e di Parma, 6 persone con l'accusa di reclutamento di mercenari e di combattimento in un conflitto armato estero. Sono state inoltre eseguite diverse perquisizioni che hanno colpito anche le altre 7 persone coinvolte nella vicenda. Le indagini, partite come detto dagli ambienti Schined-Liguri, sono risalite a una struttura organizzata operante sull'asse Italia-Ucraina dedita al reclutamento e al finanziamento di mercenari destinati ad integrare le fila delle milizie separatiste filorusse nella regione del Donbass. Tuttora, come è noto, teatro di scontri armati con le truppe regolari del governo di Kiev. Grazie.